Padanghe sul Garda, lago di Garda, oggi vi faremo vedere una cosa veramente molto particolare. Andremo nello studio Felci Yacht Design per farvi vedere una metabarca. Entreremo dentro, vi faremo vedere le cabine, il pozzetto, il fly, una barca che però è ancora soltanto un progetto. Seguitemi. Felci Yacht Design, sicuramente uno degli studi più conosciuti nel nostro paese, ma è anche lo studio italiano più conosciuto al mondo, perché tutte le barche disegnate in quel cantiere per gli ultimi vent'anni le hanno disegnate loro, ma loro non sono soltanto Dufour, anzi, loro sono tantissime altre barche, sono specializzati in fast cruiser, ovvero barche molto belle, molto comode, molto piacevoli da vivere, ma allo stesso tempo molto veloci. Gli ultimi due progetti che mi vengono alla memoria sono l'AIS 70, presentato al Salone di Cannes a settembre di quest'anno, e soprattutto il Persico 65, un progetto veramente molto bello per un cantiere che oggi è considerato il più grande e più importante cantiere del mondo. Detto questo, poi lo studio si è rivolto verso i catamarani, come stanno facendo un po' tutti quanti, perché abbiamo detto che il mercato dei catamarani è in grande crescita. Un catamarano, già l'hanno disegnato, è già in produzione presso un grande cantiere industriale, e poi hanno progettato un altro catamarano a livello di studio, che è il catamarano di domani, per loro e sinceramente anche per noi. E proprio per questo siamo venuti qui a fare alcune domande, a cercare di capire come è costruita questa barca. Qui a fianco a me ho Lorenzo Giovannozzi, ciao Lorenzo, Lorenzo insieme a Umberto Felci, sono due dei tre soci dello studio. Lorenzo, parliamo di Felci 63, questo nuovo catamarano che voi avete progettato. Ci puoi dire come avete traslato, come avete portato la vostra esperienza, la vostra grande esperienza nel mondo dei fast cruiser, nel mondo dei catamarani? La ricerca di quell'equilibrio magico tra prestazioni, comfort ed eleganza, che è stata la linea guida dei nostri fast cruiser monoscafi, l'abbiamo riportato nel mondo catamarano con questo nuovo progetto. Benissimo, piano velico, peso e derive. La barca, grazie a questo equilibrio, è una barca molto godibile, molto veloce e non estrema, che è lo scopo ultimo di questo progetto. Quindi un'analisi approfondita delle forme di carena, che parte dagli strumenti che abbiamo utilizzato negli ultimi anni, negli sviluppi delle barche più performanti monoscafolo, abbiamo portato nel mondo catamarano. L'equilibrio tra piano velico e piano di deriva, la barca è dotata di daggerboard, per garantire sempre la prestazione, ma il controllo. Il controllo. È fondamentale, sì. E sicuramente il discorso peso è di fondamentale importanza, perché un catamarano di questo tipo deve essere costruito ad alta tecnologia, per ridurre al massimo i pesi, senza mai scivolare nell'estremo. Certamente, perché deve essere un catamarano comunque sempre sicuro. Assolutamente. È un catamarano per un armatore che abbia voglia di fare un passo avanti in termini di abitabilità, di spazi, di comfort a bordo, ma senza rinunciare assolutamente al piacere di condurre una barca prestazionale e divertente. Cioè un armatore che viene dal mondo dei monoscafi, tu dici? Assolutamente, sì. Perfetto. A questo punto devo dire che mi ha incuriosito, perché io questa barca la voglio vedere. E so che voi, con una tecnologia particolare, siete in grado di farmi arrivare dentro la barca. Sì. Perciò dammi il biglietto allora. Il biglietto è questo casco che puoi indossare e ti troverai a bordo dove c'è Umberto che ti aspetta. Ah, già sta lì. Non è pericoloso. Non è pericoloso, assolutamente. Ok, ti saluto allora. Buon divertimento. Ciao Umberto. Ciao, benvenuto a bordo. Bellissimo questo fatto di mettersi un casco e cambiare realtà e ritrovarsi su una metabarca. Umberto Felci, come dice il suo cognome, è uno dei tre soci dello studio Felci. Umberto, Lorenzo, uno dei tuoi soci, ci ha accolto molto gentilmente nel vostro studio e già ci ha inquadrato questo progetto, questo vostro studio nel mondo dei catamarani. Vogliamo continuare il discorso di Lorenzo e andare a vedere un pochino più nel dettaglio quello che avete progettato? Certamente. Siamo a prua, quindi dimmi che cosa ti colpisce. Allora, io ho una cosa che mi colpisce, è gli scafi. Gli scafi che li vedo piuttosto stretti. Io vedo una prua reversa e molto, molto, molto stretta. Ma questo non incide poi sui volumi interni? Sicuramente le prestazioni sono alla base di questa progettazione, quindi gli scafi sono scafi performanti, devono essere, almeno a livello di opera viva, degli scafi sottili. Poi noi abbiamo bisogno di abitabilità per creare quell'equilibrio interno-esterno e quindi abbiamo lavorato sulle forme della carena e nella zona dell'opera morte creando dei redane e degli aumenti di volume in modo da avere degli spazi adeguati all'interno. E avete mantenuto, vedo, l'arco interno sotto lo scafo molto pulito con una cellula abitativa molto alta. Sì, esatto. Questo è il tunnel che è alto, addirittura anche un metro e venti al centro, proprio perché è molto importante, perché noi stiamo offrendo un catamarano che potrà fare navigazione d'altura in modo efficace. Quindi l'altezza dall'acqua di questo tunnel è uno dei fattori chiave che abbiamo dovuto rispettare. Se la cellula è alta, anche se l'onda è molto alta, il catamarano ci passa sopra molto comodamente. Vogliamo parlare dello stile? L'estetica per voi è sempre stata una cosa fondamentale nelle vostre barche, infatti avete sempre fatto delle barche esteticamente molto belle e anche questo catamarano lo è. Ci vuoi dare le linee guida dello stile? Certo. Abbiamo cercato anche questa volta di applicare un po' i canoni estetici che ci portiamo avanti da tempo, cioè il fatto di utilizzare delle curve tese, come a me piace definirle, alle quali poi seguono delle superfici, delle superfici dinamiche, delle superfici mai banali, non sono mai superfici piatte, sono superfici che hanno sempre una curvatura, una tensione interna che è anche legata al dinamismo che deve esprimere la forma. Loro hanno sempre lavorato sulla necessità di rendere anche il catamarano una barca più elegante, più filante. Vedo lì il fly, io vorrei andare a vedere con te il fly per renderci conto come questo è vicino al pozzetto di un monoscafo. Vogliamo andare? Trasportaci. Trasportaci. Andiamo. Sì, Umberto, questo qui è proprio come stare nel pozzetto di un monoscafo. Sì, è il timone. Sono al timone, sì, è vero. Bellissimo, queste due timoniere, molto belle anche le colonnine che salgono sopra con gli strumenti, sono molto molto carine. Sì, è un bel lavoro di ricerca stilistica anche in questi elementi, ci deve essere un dialogo con tutto il resto delle superfici, come dicevamo prima, quindi è un ambiente questo dedicato all'armatore. Qui hai il controllo di tutta la barca, è come essere nel pozzetto di un monoscafo, hai tutte le drizze. Anzi, meglio perché essendo un po' alzato controllo veramente tutto quanto. Vedi che qua dal timone puoi vedere la prua, vedi la prua sotto vento in navigazione, vedi le vele, in manovra vedi le poppe, hai tutte le drizze in piena gestione, qui hai la pulsanteria per poter lavorare sulle vele, è una posizione perfetta. E poi ho tutti i winch messi lì, in modo che io da lì posso controllare i tre avvolgitori. Ma a proposito, perché tre avvolgitori? Tre perché abbiamo selezionato tre vele, a seconda delle condizioni di vento e delle andature che si vogliono fare, molto facilmente gestibili. Perché come ti dicevo prima, l'obiettivo di questo progetto è rendere un catamarano veloce, qualche cosa di molto sicuro, molto facile da condurre e molto comodo. Un'ultima cosa, derive, io solitamente barche di questo tipo dovrebbero avere i drag e board, cioè delle derive alte che escono fuori, che poi posso abbassare, ma qui sul ponte io non vedo assolutamente nulla. No, ci sono e non estremizzandole abbiamo potuto creare delle appendici che offrono un ottimo supporto alla navigazione in bolina, ma poi quando vengono retratte restano all'interno dello scafo e quindi tutto rimane completamente pulito. E anche il pescaggio non è eccessivo quando sei in navigazione perché su una barca di questo genere non è necessario. Certamente, certamente. Senti, a questo punto invece vogliamo andare a vedere il pozzetto? Vai. Andiamo. Pozzetto molto grande, ma soprattutto pozzetto molto bello. Sono contento che ti piaccia. Sono contento perché c'è tanto lavoro, c'è tanto lavoro di ricerca funzionale ovviamente, perché questo è il cuore della mia vacanza, è dove vivo la barca, ma anche tanta ricerca formale, cioè lo stile di tutti questi elementi che sono collegati tra loro, lo stile dello scafo, della tuga, di tutto quello che hai visto prima, vive, vive insieme. Quindi c'è proprio tanta ricerca per creare un feeling piacevole. Sì, certo. Un'atmosfera di rilassatezza, di tranquillità e serenità. La fortuna di poterlo vedere con questo strumento che ci permette di essere veramente a bordo. È incredibile. È molto utile. Bellissimo questo divanetto qui che è sospeso, è veramente molto bello. Questo nasce dall'esigenza di creare una comunicazione tra interno ed esterno, perché tu ti immagini posizionato in salotto e non hai ostacoli. Quindi sei aperto verso il mare, proprio perché questo è molto minimalista. È una funzione alla quale non potevamo rinunciare, però con un piccolissimo impatto. Che voi siete maestri poi in questo tipo di cose. Tu devi sapere che io ho appreso da voi i concetti della viabilità sulla barca qualche anno fa. Su Dufour 63 stavamo. Sì, sì, sì. Voi dovete sapere, il progettista spende molto tempo proprio nello studiare come le persone si devono muovere sull'imbarcazione per far sì che si possano muovere con estrema semplicità. Infatti se voi vedete questo pezzetto, vi rendete conto che qui c'è stato fatto un grande studio di viabilità. Vero? Sì, infatti da poppa a prua ci sono alcuni gradoni molto bassi e molto lunghi che permettono veramente di muoversi facilmente, addirittura di correre. Sì. Poi si può salire sul fly sempre con una scala larga, appoggiata. L'ho visto, è molto larga. Quindi diciamo che fa parte un po' del discorso generale di questa barca, cioè il creare qualcosa di confortevole, da utilizzare in modo confortevole, fa parte del lusso di una barca di questo genere e fa parte proprio di quella ricerca di controllo, di sicurezza, di facilità, di gestione che è alla base un po' di tutte le scelte che abbiamo fatto. Certo, certamente. Visti questi elementi così particolari nel pozzetto, io direi di andare a vedere quelli che invece troviamo all'interno della barca. Vai. Andiamo. Anche qui vedo tutta una serie di elementi innovativi, come abbiamo già visto in pozzetto. Primo tra tutti questa cucina, che come già avete fatto su diversi monoscafi che io ho visto, l'avete portata verso prua. Esatto. Questa proprio nasce dall'esigenza di non avere delle barriere, quindi creare qualche cosa, uno spazio che fosse completamente aperto al mare. Quindi questa cucina che arriva a chiudere il salotto con tutta la sua vetrata attorno e che mi permette di vedere fuori direttamente. Certamente. Sempre questo discorso di comunicazione a questo punto visuale. Molto importante, molto importante. E poi è la vetrata che è la luminosità che mi consente di vivere dentro e fuori. La vetrata è molto bella. L'unica cosa che mi lascia così è che non vedo da nessuna parte o blu. Perché sono sopra. Ah, hai ragione, sono sopra. Abbiamo messo questi tre hatch molto grandi che permetteranno una bella, diciamo, arieggiamento forzato. Certo, perché essendo sopra fanno depressione e fanno scorrere arie. L'idea è quella di diminuire il più possibile l'utilizzo dell'aria condizionata. Quindi tre hatch che in questo caso non mi disturbano la visibilità, sono più funzionali e mi aprono alla ventilazione naturale. E poi c'è quel divano che è veramente molto bello e mi sembra più però un divano da abitazione che un divano da barca. È un poltrona frau che abbiamo scelto perché ci piaceva molto. Sicuramente dal punto di vista funzionale è come la barca, sarà perfetto perché lo fanno dei professionisti. E in più sposa moltissimo il nostro stile. Lo stile è molto pulito, molto lineare. Abbiamo cercato, come vedi, di togliere tutto quello che è in eccesso. E quello è un divano molto semplice, aereo, sollevato. Come tutto quanto il resto. Quindi direi che si sposava esattamente bene la filosofia di tutto il progetto. Cioè di una cosa performante con massimo comfort e massima sicurezza. Molto bello, sì. E infatti parlando di sicurezza non posso che dirti che devi guardare. Esatto. Andiamo a vedere questo che è il centro di comando interno praticamente. C'è tutto là dentro. Lì gestisci tutto, tutto quello che abbiamo visto sul flyer ripetuto qui. Hai anche la possibilità di controllare il motore, la possibilità con i joystick di gestire il pilota automatico. E quindi tu praticamente in caso di cattivo tempo o di navigazione notturna gestisci la barca. Cioè posso stare qua dentro e controllare completamente l'imbarcazione. Benissimo. A questo punto mi devi togliere una curiosità. Io devo scendere giù e vedere se effettivamente giù ci sono i volumi che tu mi hai detto. Perché a me gli scafi sembrano veramente struttissimi. Certo, allora proiettati nello scafo di dritta dove troverai la cabina armatoriale. Andiamo. Avevi ragione. Prova superata. Quindi i volumi ce ne sono ma ce ne sono e come. Questo letto per giunta trasversale è veramente molto grande. Che dimensioni ha? Sì abbiamo un letto 2x2. 2x2 con fine extra. King size vero? Un vero king size. La sua altezza è il segreto che ci permette di guadagnare spazio laterale. Quindi ingrandire ancora di più i volumi dello scafo. Ma comunque l'impressione è quella di essere veramente su un catamarano da crociera. Sì sì. Anche perché poi la vista va dritta per dritta senza ostacoli. È tutto bello largo. E sì questo è uno scafo completamente dedicato all'armatore con il suo mobile office là vicino all'ingresso. Quindi vedi che. E la porta giù in fondo è il bagno chiaramente. Esatto è la zona dell'antibagno in cui abbiamo un doppio lavello e una grandissima doccia con trasparente anche lei con la finestra ovviamente sul mare. Cioè mentre faccio la doccia posso andare fuori. Esatto e poi dietro un'altra zona separata che è quella invece del WC. Del WC. Video. Un altro lavello. Molto ampia chiusa. E questa cassa di carbonio che cos'è Umberto? Allora questa cassa è quella dentro la quale corrono le due dagger board di cui parlavamo prima. Un aspetto interessante dal punto di vista formale è che un effetto idrodinamico che ci interessava che è quello di generare un po' di lift verso l'alto. Che le ha fatte fare tonde. Esatto che ce le ha fatte fare una certa curvatura sposa perfettamente il minore ingombro. Vedi che questa cassa segue proprio la forma dello scafo. E per quello abbiamo deciso anche a livello così estetico di lasciarla in carbonio a vista perché è un elemento che ricorda che sei a bordo di un catamarano sportivo, performante e sicuro. Giustamente, giustamente, giustamente. Devo dire che ci sono tanto studio anche qui di particolari dettagli per fare in modo che questi volumi siano percepiti. Tra l'altro, quindi che ci siano ma che si percepiscano ancora maggiori. Tipo la soluzione del bagno così trasparente che è molto carina. Quello ti permette di evitare l'ingombro di tutta la cella doccia. È un bel trucco. Poi ci sono anche questi fianchetti scafi scuri che ti danno ampiezza, ti danno profondità. E poi la larghezza effettivamente c'è perché se pensi che questo letto è un 2x2, quindi non stiamo parlando di una cosa fasulla. Molto bello anche questo armadio a tutta altezza, un vero e proprio armadio da casa. Sì, sì, una casa duente con tutti gli spazi. E lì in fondo a poppa poi io vedo la cabina con i letti separati. Letti separati che si possono muovere e diventare un mutico matrimoniale. Però lì lo scafo ci ha consentito di proporre questa cabina con i due letti che comunque è molto bella. Nel caso di ospiti che possono dormire separati, ha il suo bagno anche lei, la sua doccia. È una bellissima cabina, molto ampia. Molto bella, veramente molto bella. E con questo abbiamo terminato la nostra visita nella Meta Barca. Una avventura veramente particolare questa Umberto. Sì, sono contento che ti sia piaciuto. Se è piaciuto anche a voi, fatecelo sapere, dateci il vostro like. E con questo non mi rimane altro che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video con SVN Solovelanè. Grazie a tutti.